Ti facciamo così, e noi auguri, ti facciamo così. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Raun, tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Mi permesso di chiamare Gioia Eminenza Cardinale Patriarca. Si chiamava fra Mauro, si chiamava fra Carlo, ma... Quattro minuti andassi con Mauro perché a Carlo era più del mondo. Poi il suo segretario che poi ha fatto te, che è una cosa bellissima, ha denomato il suo capo e ci ha servito la sua mamma. Ci ha servito pure la mamma. Quindi io ho ancora solo una cosa da fare. Poi non parlo più, lascio la parola alla sua eminenza perché poi si sviluppa così la cerimonia. Se non ho capito male. Allora, questa Presidente della Comunità di festeggiamenti è quindi davanti a noi, la signora Elisa. E la signora Elisa. E la signora Elisa. E la signora Elisa. Abbiamo pensato di fare un piccolo presente, Floriale Eole. Grazie. Adesso credo che è questa piccola cerimonia iniziale, che poi condenorà più tardi perché poi magari metteremo quale cassa sotto i tempi, eccetera. La sua eminenza è il patriarca di Santa Giustina, che ha un piccolo presente e che so essere un presente adatto a lei, signor Rao, che lei è così bravo, anche quando non vuole, ha mettere a posto la chiesa. Siamo a trovare sempre pronti per la messe delle 6 di mattina, come si usa le 6 di mattina, la nostra messe si sveglia alle 4 e mezza 5 prima di andare a lavorare, mette a posto tutti i fiori, tutti i pelli e allora abbiamo pensato che il signor patriarca ti farà questo per 30. Siamo a guardare. Dove è prima. Bisogna la prima. E subito. E non vuole dire che io... E salato. Dalla mamma. Mamma. Intanto a primo acchito si vede un Rosario, secondo me è un mafò. Ma? E se vede un corso? Molto. A se mi difficoltoso si agli aricrò? Si agli aricrò. Si agli aricrò. Se ha integra a condizione. Allora, questo qua mi ha toccorato a darlo. Sto. Dando un petto qua. Tu sei una cosa che ti farà da creare. Tu cacciolano le tue un po' Tu cacciolano le tue un po'? No, no.